Ti do il benvenuto alla tua sessione di meditazione per il rilassamento profondo. Trova un luogo tranquillo dove possa sederti o sdraiarti comodamente. Lascia che questa guida ti conduca in uno stato di calma e pace interiore. Chiudi gentilmente gli occhi e porta la tua attenzione al respiro. Respira profondamente, sentendo l'aria che entra nei polmoni e poi lasciala andare lentamente. Ripeti questo ciclo di respirazione per qualche minuto, concentrati solo sul respiro, lasciando che ogni ispirazione e espirazione ti portino via dallo stress e dall'ansia. Ora, porta la tua attenzione al tuo corpo, partendo dalle punte dei piedi. Muoviti lentamente verso l'alto fino alla cima della testa. Nota le sensazioni fisiche in ogni parte del tuo corpo. Se incontri tensioni o rigidità, lascia che si scioglino con il tuo respiro. Immagina che ogni respiro porti con sé onde di rilassamento che si diffondono, sciogliendo ogni nodo di tensione. Mentre respiri profondamente, immagina una luce dorata e calda che ti avvolge. Questa luce ti protegge e ti avvolge con amore e tranquillità. Senti il suo calore penetrare dentro di te, sciogliendo ogni ansia o preoccupazione. Porta ora la tua attenzione alla tua mente. Nota i pensieri che fluttuano senza giudizio. Accoglili come nuvole che passano. Respira dentro di essi e lasciali andare con ogni espirazione. Senti la tua mente diventare sempre più quieta e calma, concentrati sulla sensazione di pace che cresce dentro di te. Senti ogni parte del tuo essere rilassarsi sempre di più, immergendoti in un oceano di tranquillità. Con ogni respiro diventi sempre più leggero, libero da ogni peso. Immagina di trovarti in un luogo sicuro e sereno. Visualizza ogni dettaglio, i colori, i suoni, gli odori. Senti la pace e la tranquillità di questo luogo che si diffonde dentro di te. Continua a respirare profondamente, permettendo a ogni respiro di approfondire il tuo rilassamento. Senti il tuo respiro in sintonia con il battito del tuo cuore e il fluire della vita stessa. Porta ora la tua attenzione al momento presente. Non c'è nulla di cui preoccuparsi, nulla da fare tranne essere qui adesso in questo stato di pace e calma. Senti gratitudine per questo momento di tranquillità. Gradualmente riporta la tua consapevolezza al respiro. Respira profondamente riempiendo i polmoni di aria fresca. Con ogni espirazione torni lentamente alla piena consapevolezza, portando con te la sensazione di pace e rilassamento. Quando ti senti pronto, apri gentilmente gli occhi. Porta con te questa sensazione di calma e tranquillità nel resto della tua giornata, sapendo che puoi tornare a questa meditazione ogni volta che ne hai bisogno per ritrovare il tuo equilibrio interiore. Grazie per la visione!